Imagination Just an Illusion alle 8 e 10 minuti, Good Morning Milano sempre in diretta, ve lo ricordo, sugli FM 96.2, sul Dub Plus in tutta Lombardia e poi ci sono anche le applicazioni per iOS e Android del sito internet crystalradio.it Buongiorno al nostro ospite di oggi, gradito ritorno, io almeno una volta all'anno, se non almeno due o tre lo voglio qui e per fortuna eccolo qui con noi, Bob Fantucci, buongiorno! Buongiorno e buona giornata a tutti! Il teatro Guanella torna a trovarci, sono contento Oramai è un appuntamento come Natale, una volta tanto arriva Sono le feste comandate, Bob quando arriva arriva così E quando arriva arriva ci porta come sempre tutta la lunga programmazione, il grande cartellone ben pregno di appuntamenti del teatro Guanella Sì, l'ottava stagione Ottava stagione, perché ricordiamo, per chi si fosse collegato solo in questo momento, come dicevano i casi, ottava stagione perché? Perché otto stagioni fa tu e un altro manipolo di Matti, perché questa è la verità, cosa avete combinato? Un altro manipolo di Matti, ci è stato chiesto di gestire questo teatro, appunto il teatro Guanella che era chiuso da 15 anni E quindi noi ben entusiasti perché ci piace ricordarlo, come compagnia teatrale siamo nati al teatro Guanella 51 anni fa C'eravate già stati lì, avevate ben frequentato, poi a un certo punto ognuno prende le sue strade, il teatro chiude più o meno Chiude ma rimane lì, nel senso ecco c'è di buono questo, perché qui a Milano quando chiudono poi un attimo che spostano tutto Invece no, chiude ma rimane lì, nel 2017, anzi fine 2016 ci viene chiesto di dare una mano a gestire e a riaprire questo teatro Noi ben felici e ci siamo buttati in questa avventura E ci tengo a sottolineare, che secondo me è un valore aggiunto in questo caso, come tutta questa azione viene fatta in maniera volontaristica Totalmente volontaria Per quello, perché questa è la cosa straordinaria della vostra operazione, nel senso che arrivo qualcuno e dice guarda questi sono 190 milioni Tenete, fate tutto, e tenetevi le metà per voi, allora dice vabbè, quasi quasi ci penso Allora ciao, non c'ho una lira, c'è un teatro da rimettere in piedi, vi va di farlo? E voi avete risposto sì Anzi, se ci portate qualche euro, intanto che lo rimettete in piedi, siamo contenti Ed è successo così È successo così, però la cosa bella è che fin da subito e adesso ormai ben consolidata Insomma il pubblico, la zona, Milano in generale poi ha risposto bene Sì, devo dire che ha risposto bene, dopo un iniziale zoccolo di spettatori di zona A questo punto siamo, li abbiamo persi, fra virgolette, gli spettatori di zona, nel senso che sono diminuiti E la gentrificazione anche del teatro, penso Esatto, mentre naturalmente ci siamo aperti un po' alla città e alla periferia vicino alla città Questo mi piace dire grazie un po' alla programmazione che facciamo, che è varia variegata È molto varia, c'è veramente di tutto Infatti adesso poi abbiamo qui un po' il vostro programma, il vostro bel quadernetto che tutti gli anni arriva intorno a questo periodo Anzi, 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 siamo già in ritardo, giusto? Perché è già iniziata la stagione Quando è che è iniziata? Il 19 di ottobre Con che cosa avete aperto il Sipari quest'anno? Dancing Queen, il musical dei cuori con le ali Cavallo di battaglia del Guanella, mi sembra Sì, sì, sì Già visto, già sentito più volte, no? Sì, l'hanno già fatta due volte da noi, però è uno spettacolo molto coinvolgente La gente si alza in piedi, canta, balla, proprio perché le musiche sono molto trascinanti E a proposito di apertura della città è tutto Al 3317853555, che è il nostro numero di Whatsapp Ci scrive Marilena che dice Ciao Bob, verrò sicuramente a teatro questa stagione Quindi vedi, è una promessa Grazie Quindi abbiamo già la prima che verrà ad ascoltare e a vedere qualcosa sul palco del Guanella Che divide il suo programma in uno, due, tre, quattro, cinque mi sembra, giusto? Cinque macro categorie Quattro macro categorie più una che quest'anno è un evento molto 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 particolare Ok, diciamo solo i titoli così delle categorie Prosa Bambini Musical Concerti E poi c'è un evento speciale di cui ci parlerai fra pochissimo subito dopo la prossima canzone Che è Gali con Niente Panico Lo stesso Niente Panico che poi vi spieghiamo tutto anche noi Gali con Niente Panico Qui su Christian Radio Good Morning Milano Stiamo parlando con Bob Fantucci appunto del Teatro Guanella Della stagione 2024-2025 del Teatro Guanella Ottava stagione nelle vostre mani Che vede appunto la solita divisione Che però insomma è sempre più alto sto guadernetto che mi portano Se non mi più pagine c'è Perché appunto chiediamo prosa, bambini, musical, concerti Da dove vuoi partire? Lascio a te Lascio a te magari appunto Dici quello che succede adesso Ma comincerei con Allora questa settimana c'è sabato e non domenica Sabato alle 16 Uno spettacolo per bambini Che cantiamo insieme appassionatamente Musical dei Cuori con le ali Che ormai Hanno occupato ormai Hanno colonizzato Occupai Guanella Sono tantissimi Sono una bella compagnia numerosa Sì Bella compagnia numerosa Che si massacra di spettacoli Devo dire la verità Si massacra di spettacoli E la cosa che mi lascia sempre molto affascinato Che Sabato fanno da noi Cantiamo appassionatamente Domenica fuori Milano Fanno un altro spettacolo per bambini Completamente diverso Quindi loro si tolgono il cappello Il costume Dopo tre settimane fa Che hanno fatto Dancing Queen Sempre da voi Esattamente Dopo che fra un mese Fanno la scopata di Buon Natale Sempre lì da voi Cioè sto vedendo Ne hanno veramente Ma come fanno Cioè io E qui devo dire Saranno anche le fiabe a gennaio Cioè qui Cioè io risisco che entro Al posto E invece di Babbo Natale Parlo di Dancing Queen Un attimo Se fossi io Sul parco Entro con la parrucca bionda Al posto del Al posto di Babbo Natale Io sarei pessimo Qui è l'abilità del regista Che è Fabio Russi Che è molto istrionico E capace di far variare I suoi attori Dico in tempo reale Perché è vero Praticamente Eh sì infatti Cos'altro poi Non dobbiamo perderci Oltre tutto il resto Ma che sono magari Qualche anche novità Della stagione Qualche nuova proposta Allora abbiamo Delle novità Quest'anno in stagione Sia come prosa Tipo per Natale Il 14 di Marzo Scusatemi Il 14 dicembre Perdonatemi Parenti serpenti Che è la trasposizione teatrale Del classico film Che più o meno Non dico che tutti conoscono Ma quelli della nostra generazione Sì Ti svelo un segreto A casa mia C'è la tradizione Di guardarlo tutti i Natali Ecco È un film molto Bello Un po' crudo Perché il finale Sempre il finale Un po' così E questa è la trasposizione Teatrale Parenti serpenti Questo Mi piace anche il nome Della compagnia teatrale Gli improvvisati Gli improvvisati Mi piace Già gli voglio bene Altra compagnia Che Oramai Una volta all'anno Presenta uno spettacolo Al Guanella Poi Abbiamo In marzo Sempre di prosa Problemi di coppia Che è la versione Del Al femminile Del Ok Del E non lo so In un po' di memoria La strada coppia Bravo Grazie Della strada coppia Ho letto E non lo sapevo Ho letto Della strada coppia E Questo direi per la prosa Poi Altri spettacoli di prosa Fra i quali Il nostro solito Cammeo Della nostra compagnia Che tutti gli anni Fa uno spettacolo Anche quest'anno Quando lo fate Cosa fate? Facciamo il 22 febbraio Il matrimonio Era ieri Una commedia Assolutamente divertentissima E molto Ironica Con tutta una serie Di personaggi Ci sei anche tu Io faccio il regista Ah ok Perché sei tu quello Dietro nella foto Che non si vede per metà Sì Mi chiedevo perché fossi dietro Solo per metà Perché in effetti Il palco è loro Fammi vedere Bob dov'è E non l'ho trovato pure Ho visto la faccina Che sbuca fuori dietro Sono io Ah ok Perché tu sei il regista Di questo spettacolo Sì Istrionico anche tu Come regista? Mi attengo abbastanza Al testo Ma Con Un po' Di caratterizzazioni Dei personaggi Perché I personaggi Sono molto Caratterizzati E molto Calati Sul quotidiano Cioè un matrimonio Quindi c'è la wedding planner La suocera La mamma dello sposo Tutti questi personaggi Che interagiscono Tra di loro In modo più o meno Normale Divertente Vorrei chiedere Vorrei fare la stessa domanda Agli attori Che saliranno sul palco Guidati da te Per capire Se sei veramente Se sei un bravo Regista O Sei vero Un regista Tolerante Tolerante Fino a che A un certo punto Dico Ragazzi Però adesso Almeno la parte A memoria Salla Ah ecco Quello Anche quello Ti dico già Sarei pessimo Io Non riuscirei a prendere Memoria Manco il titolo Dello spettacolo Quindi Questo appunto Dicevamo Tutto questo Al Teatro Guanella Teatro Guanella Che ha un sito Ricordiamolo Perché magari Chi si sta ascoltando In questo momento Diceva Ma io vorrei Approfondire Vorrei magari Leggere bene Il programma Il programma Qui noi abbiamo Cartaccio in mano Ma si trova appunto Anche sul sito Oppure se andate al teatro Lo trovate lì Giusto? Sì Certamente Il sito qual è? www.teatroguanella.milano.com .com Ok E su lì ci si può Poco manchi di biglietti Magno Sì 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 I biglietti Le sinossi degli spettacoli Perfetto Gli spettacoli fuori stagione Ci sono gli abbonamenti Anche sto leggendo Qua Sì Che quest'anno Ce n'è qualche uno in più Con molta fatica Però tutti gli anni Un po' di abbonamenti Aumentano Quando saremo grandi Probabilmente Vivremo di abbonamenti Che poi vi dico Insomma L'abbonamento costa meno Cioè Guardate che sono Dieci ingressi Cento euro Cioè Dieci euro Dove vai a Milano? Costa di più il cinema? Sì sì no Costa di più tutto Dove vai? Dieci euro Cioè Costa di più uscire di casa Quasi che venire al teatro Cioè Dieci euro Ma veramente Non fai più niente a Milano No C'era Stavo girando un bel meme In questi giorni Un video su TikTok Dicendo Cosa puoi fare con dieci euro a Milano Iniziamo una giornata Con dieci euro Colazione Dieci euro Finita la giornata Basta Certo Era così Il concetto era quello Va bene Andiamo con un po' di musica Poi Torniamo qui ancora Con Bob Con il teatro Guanella Perché Mi piacerebbe sapere Anche un po' però Cosa avete in serbo Con questi eventi speciali Insomma C'è un evento speciale Meno racconti Subito dopo La prossima canzone Che sono gli ACDC Con Highway to Hell Sempre qui In diretta Good Morning Milano Crystal Radio Clementino Parlo e te Parlo e te Non so Non so Prima volta che ascoltavamo Questa canzone È appena uscita Uscita l'altro ieri Quindi insomma Nuova nuova Ce la ascolteremo E la capiremo meglio Nelle prossime settimane Bob Allora Abbiamo detto che ci sono Divisioni No Bambini Prosa Musical Concerti Ma c'è anche un evento speciale Cos'è questo evento speciale? Sì È un evento speciale Che il Teatro Guanella Meglio Sì Teatro Guanella Ha voluto Organizzare In occasione Dell'anno santo Che ci sarà L'anno prossimo Chiamando Questo gruppo Internazionale Che sono I Gen Verde Gen Verde Gruppo Molto conosciuto Negli anni Settanta E anche Ottanta Il Gen Verde È il gruppo Più grosso Il Gen Gen Rosso È il gruppo Più grosso Il Gen Verde Invece È il gruppo Puramente femminile Con Orchestra Cantanti E anche un po' Di ballerini Che portano avanti Una serie Di temi Fondamentali Quali Vabbè La solita La pace Che in questo momento Non c'è assolutamente bisogno Dalla per scontata La solita pace Dico la solita pace Perché in questo momento Mai come in questo momento Siamo Su una bomba Orologeria In ogni senso 19 artiste Provenienti Da 14 nazioni Differenti Cavolo Difatti Sono molto Sudamericani Anglosassoni Asiatici È un gruppo Molto Amalgamato Che comunque Unque Universalmente Internazionalmente È molto Conosciuto Abbiamo voluto Fare Questo Evento Speciale Inserito Nella nostra Programmazione Ma fuori Dalla Stagione Vera e propria Quindi un evento Fuori stagione Che sarà quando Fa poco Il 19 novembre Con due spettacoli Uno alle 18.15 E uno alle 21.15 Ah ok Quindi due spettacoli Di questi Di Genverde In versione acustica Leggevo appunto Leggevo qui Nella vostra brochure Da 50 anni In giro per il mondo Con più di 1500 Spettacoli e concerti 70 album Prodotti Nove lingue E in complesso In tutto Tra Genverde Genrosso E le varie generazioni Anche che sono passate 147 componenti Tra musiciste Cantanti Attrici Danzatrici Insomma Tutto veramente Un ensemble Ripeto È veramente un gruppo Che Ha fatto La storia Del musical Mondiale Mondiale E tutto questo Alterato Guanella Quindi insomma Come appunto Come dicevamo prima Sì magari si è persa Un po' A volte la dimensione Di quartiere Certe cose Ma insomma Si guadagna Una dimensione Internazionale Che fa capire Come anche Un teatro Che è gestito Da volontari Che ha pochi soldi Che ha i margini Della città Perché non è proprio In centro E tutto Bene Quei manchi Non contano nulla Quando poi si va a vedere La programmazione Insomma È questa la forza Assolutamente sì Forse c'è un po' di fatica Ecco quello in più Magari Sì Però Poi la soddisfazione Di una stagione Che va bene Quando esce La pubblicazione All'inizio Generalmente a settembre Di tutta la stagione Immediatamente Abbiamo Il Il polso Di quelli Che ci dicono Quest'anno Avete fatto Una bella programmazione Oppure Ma quest'anno La programmazione Mi lascia un po' perplesso Ecco Quest'anno Devo dire Sinceramente Che davanti Alla programmazione Della stagione 24-25 Del Canella Abbiamo avuto Solo Delle Sensazioni Positive Positive Un Punto Solo Abbiamo Volutamente Ampliato La parte Bambini Perché la parte Bambini Ci sta dando Delle grandissime Soddisfazioni Quindi Gli spettacoli Da 6 All'anno Sono diventati 9 Proprio perché E allora Dopo la prossima canzone Mi racconti bene Di questo mondo Degli spettacoli Sono da 6 Dicevi Quest'anno A 9 Negli anni Depende Da 6 spettacoli A 9 spettacoli Insomma Non male Non volevo dire Quanto è di più percentuale Ma non lo so Non sono matematico Non lo so dire Un x per cento in più 30 credo sia Era facile Infatti Credevo anche io Fosse il 30 Più o meno Ma non volevo Sbilanciarmi troppo Perché poi dopo La matematica È una cosa sconosciuta Sì Completamente Assolutamente Completamente Lo sa benissimo La mia mamma Il mio papà E soprattutto Tutte le maestre e professori Che ho avuto Nella mia lunga E fallimentare Carriera scolastica Non fate come me In questo caso Don't try this at home Click Boom Rose Villain 8 e 42 minuti Cristel Radio Qui a parlare Del teatro Guanella Insieme a Bob Fantucci Abbiamo detto appunto Nella divisione Tra prosa Bambini Musical Concerti Abbiamo parlato anche Dell'evento speciale Dei Gen Verde Del 19 Ho detto giusto 19 novembre 19 novembre Giustissimo Doppia Doppio spettacolo 18 e 30 E 21 e 15 Ma adesso Parliamo appunto Di questo mondo Dei spettacoli per bambini Che appunto Da sei spettacoli Della scorsa stagione Sono passati a nove In questa stagione Sì Con Degli spettacoli Differenti Tra di loro È un po' Un tentativo Che quest'anno Abbiamo fatto Rivolto proprio I nostri Noi li chiamiamo Cuccioli Che poi in effetti Sono i cuccioli Che vengono accompagnati Dai genitori Quindi alle volte Sono anche i genitori Che spingono i bambini A venire a vedere Gli spettacoli Da noi Quindi Oltre Alla Le rappresentazioni Dei cuori Dei cuori con le ali Quest'anno abbiamo Un'altra compagnia Che si chiama Soia Che ci ha Presentato Già uno spettacolo Ce ne deve presentare Un altro Il primo di dicembre E un altro In marzo Molto Molto frizzante Stavo guardando Adesso Il primo di dicembre Fanno SS Principesse E c'è proprio Un disclaimer Con scritto Per tutta la famiglia Perché poi Il concetto è quello Anche Adesso Diciamoci la verità Ma io Papà Ma che voglia C'ho di vedermi Le principesse Ste robe qua Cioè Brava Sì ok Batilde Ti porto Va bene Invece Cerchiamo di tirare In mezzo Anche poi I genitori Che accompagnano Perché O perché Ci sono delle canzoni Che fanno parte Della nostra Vita passata O I costumi I balletti Le interpretazioni Catturano anche Gli adulti Quindi È proprio Veramente Uno spettacolo Per famiglie Lo spettacolo Per bambini È uno spettacolo Per famiglie Beh È meno male Niente a dire È una nuova È una modalità Più interessante Appunto poi Insomma Se si trova bene Se anche da parte Non cucciola Della famiglia Si trova bene Magari torna a vedere Qualcos'altro Poi Esatto E questo è quello Che succede Sempre più spesso Invece Parliamo di concerti Cosa abbiamo Quest'anno Di concerti Abbiamo Il 23 novembre Un omaggio Ornella Vanoni Con un gruppo Che è già stato Da noi E ha già fatto Uno spettacolo simile Chi sono Il gruppo Mamì 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 40 di 40 No Con una cantante Molto Performante Devo dire Una bella voce L'8 febbraio I Quaterstagion Che sono Un gruppo Di Quattro Fuori di testa Diciamo così Che canta In milanese Canzoni Un po' Classiche Però In milanese Con i testi loro Un po' Canzoni In milanese Create Scritte Proprio da loro Passo Duomo Passo Duomo L'iconosciamo 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 Hanno suonato anche una finale Il punto dei Milano Storytelling Awards Quindi siamo molto contenti Di rivederli Anche loro Bravissimi Poi sono bravi musicisti E quest'anno Questo È lo spettacolo nuovo Che hanno E quindi Lo presentano E da ultimo Il 29 marzo La pezzi Evergreen Con Un numero di musicisti Non il quartetto Già nella foto Vedo che dovete Soppalcare il palco Mi sa Non ci stanno Soprattutto per gli strumenti Che sono veramente tanti Immaginate Una big band Una swing big band Di quelle Da film Per intenderci Sì Per intenderci Quella scena finale Dei Blues Brothers In cui c'è tutta quella band Dietro che suona Vestita bene Ecco Quella roba lì E quindi Il 29 marzo Tanti concerti Bob Abbiamo dimenticato qualcosa? Per quanto riguarda Bambini E prosa No Non abbiamo dimenticato Musical Musical Ci sono due novità Veramente due Belle novità Dimmi 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 Una Il 16 novembre Il grande show Che è uno spettacolo Di una compagnia Sette pari Veramente Come dire Giovane Frizzante Preparata bene Performante Che presenta Il grande show Che non è nient'altro Che Lo spettacolo The Greatest Show Ah ok Il Circo Bambum Giusto colore E Invece La prima Assoluta No Su tutto Il territorio Nazionale Un mondiale Internazionale Ok Il 12 aprile Sempre con i cuori Con le ali Questa opera Perché non si può definire un musical Non si può definire una prosa È proprio un'opera Che è Assassino Delitto Delitto Sul treno express Ok Come capite dal titolo E dalla mia gaff Sapete benissimo a questo punto Che cos'è Ogni riferimento è puramente voluto Voluto È un'anteprima Prima assoluta Con un'interpretazione Di anche scenografie E brani Molto Come dire Molto complessa Ma molto Messa bene Sistemata La famosa messa in scena Qui è stata bene Sì Sì Bob Siamo arrivati alla fine Quindi ricordaci Le coordinate Per venire al teatro Per conoscere il teatro Per seguire il teatro Così che tutti quanti Possiamo Adesso dare seguito A quello che leggiamo Appunto in queste 20 paginette Importanti Che ogni anno Ci porti qui Allora Ridò il sito Che è www.teatroguanellamilano.com Tutto minuscolo E tutto attaccato Do il numero di telefono Che è 370 1-2-17-473 1773 per informazioni, biglietti e quanto fa spettacolo, e poi la possibilità di acquistare i biglietti direttamente con Vivatica e scegliendovi il posto. Non dimentico da ultimo due cose interessanti, il parcheggio gratuito, che non è da sottovalutare, e il bar che abbiamo a disposizione all'interno del foyer. Ok, io volevo anche ricordare gli abbonamenti. Sì, faccio io per te, Bob, mi sembra giusto ricordare anche tutti gli abbonamenti, che vi dicevo, nella versione più conveniente sono 10 ingressi a 100 euro, oppure a 5 ingressi a 55, se no vai parlando potete prendere anche la poltronissima, insomma, a spendere tanto spendete 140 euro, cioè dove andate da nessuna parte, quindi insomma. Questo è quanto, quindi potete trovare in via Dupré, a Terratto Guanella, zona lì in fondo, Mac Mahon, vicino al Ponte Aghisolfa, semplici arrivo pure il tram, quindi insomma non avete problemi per arrivarci. No, non c'è il tram. No, stanno rifacendo i binari del 12, per cui c'è sostitutivo. Bene. Bob, grazie mille. Grazie a tutti voi, buona giornata e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.